Mia madre è una donna straordinaria, mia madre è una di quelle donne degli anni 50. Le donne negli anni 50 non si pettinavano, si coaffavano, è diverso. Sono quelle che hanno mantenuto in vita questa ditta lavella, che faceva questi tubi di lacca lunghi un metro e mezzo, marrone. Io mi ricordo mia mamma quando si dava la lacca, fantastica, partiva e faceva poi se entrava in bagno dopo di lei era tutto appiccicoso. Mia madre probabilmente è la responsabile del buco dell'ozono. Mio padre e mia madre secondo me non si sono innamorati, semplicemente mio padre è rimasto appiccicato a mia madre.